Gabriele Paulini, il presenzialista televisivo finale, attenzione, commento a caldo del mio compagno che diceva che non sapeva giocare a voce, invece non è vero, è brevissimo, siamo in finale, partita dura, ma noi non molliamo con l'amico Pietro, la coppia che è arrivata in finale e molto determinata, quindi ovviamente saremo pronti alla sfida guarita, vai Pietro, et voilà!